da Juventino, da Gobovero, io voglio veramente che tutti gli italiani sono dietro l'Inter perché alla fine ripresenta l'Italia, a me mi dà tanto fastidio quando la Juve stava in una competizione che tutti stavano ragguffando per perdere, alla fine l'Italia ha bisogno di questo, l'Italia non ha giocato i mondiali e questo porterà qualcosa perché la gente deve rispettare il calcio italiano, quindi mi raccomando anche i Juventini tutti dietro l'Inter perché alla fine siete tutti italiani.